Ciao a tutti, bentornati! Anche questo mese torno con la box di Glamify. Il mese scorso vi ho mostrato la box che mi hanno inviato, questo mese invece hanno scelto di inviarmi un'altra tipologia di box. Questa qui nello specifico è la Glamlux che contiene sia prodotti skin care che prodotti make up che prodotti anche per i capelli. Vi ricordo anche inoltre che abbonandovi dai 6-12 mesi c'è la possibilità di ricevere il 20% di sconto sulla prima box inserendo il codice sconto ROSA20. Vi ricordo anche che nello scorso video ho anche sbagliato a dirvi il codice sconto, infatti vi ribadisco che è ROSA20. Andiamo a vedere questa box che cosa contiene. Questi sono 7 prodotti a differenza dei 5 della scorsa e andiamo a vedere subito che cosa c'è. Allora, del brand Sasha Kwan, quindi un prodotto per capelli, nella scorsa box ho trovato uno shampoo, questa volta invece è il balsamo. Non l'ho ancora provato lo shampoo, li proverò sicuramente insieme e mi farò sapere sicuramente in seguito. Altro prodotto di cui sono contenta è un siero di questo brand che è Inkey List ed è un siero all'acido ialuronico. Infatti di questo brand, questo nello specifico, mani di ricotta come sempre, di questo brand, questo nello specifico, era proprio uno dei prodotti che volevo provare. Quindi sono molto contenta di averlo ricevuto perché sicuramente io l'avrei comprato. È un acido ialuronico quindi prettamente idratante. Di Glow Recipe invece, sono strafelice, della stessa linea all'anguria, nella scorsa ho trovato la maschera viso, questa volta c'è il tonico esfoliante agli acidi PHA e BH, quindi suppongo acido salicilico, sempre all'anguria. La fragranza infatti è molto simile, fresca, sa di anguria, cosa che infatti mi piace tanto. È un tonico idratante che affine i pori all'acido ialuronico, cactus, acqua e... Bene, contenta e la proverò sicuramente a breve. Di Sunday Reelay invece, altro brand che bramo da un po' e sono contentissima di averlo trovato, un altro dei brand strafamosi e anche molto costosi, presenti all'interno delle box, ho trovato la crema viso alla vitamina C. Questo qui tra l'altro è uno dei prodotti più famosi del brand, penso abbia vinto forse qualche premio, non lo so, comunque è uno dei loro prodotti più famosi ed è il Sio vitamina C idratante, crema idratante. Vediamo un po' anche, sa un sacco, si sente un po', è un po' aggrumato, la proverò sicuramente a breve perché volevo una crema alla vitamina C e visto che ho anche un siero alla vitamina C vorrei utilizzarli insieme, quindi sono strafelice di aver trovato questa crema. Il formato non è grande, ma è neanche troppo mini mini size, quindi forse per un mesetto riuscirò a utilizzarla. Altro prodotto, una maschera di Fresh, la Vitamin Nectar. È una maschera idratante e illuminante. Ha questa fragranza aggrumata, infatti ci sono un sacco di frutti all'interno. Come sempre, Fresh fa sempre queste maschere molto budinose, gelatinose. Sto utilizzando la maschera ai petali di rosa, che non mi dispiace, non è tra le mie preferite, però non mi dispiace. E questa qui, infatti, ero curiosa, l'avevo già d'occhiata, sono curiosa di provarla da 15 ml. Secondo me, questa qui mi piacerà tanto, me lo sento. Poi, per il corpo invece, di questo brand Made in Goetz, è una crema corpo. Non conosco questo brand, è la 30 ml ed è una crema idratante, alla vitamina B5. Infine, prodotto make-up, c'è all'interno questo duo di blush. Molto carino anche il packaging. Questi due blush, tra l'altro, uno mi sembra anche, questo qui, mi sembra anche un po' glitterato, con delle pagliuzze. Quindi d'estate sarà molto bello, questo qui un po' più scuro. E invece, da questa parte, ho questo blush un po' più rosato. Mi piacciono, perché non sono i soliti rosini già visti e strarivisti, quindi sono contenta anche di questo prodotto. Lo scorso mese ho trovato di questo brand, la palette, che io non ho ancora provato, la proverò appena possibile. Infatti, è un brand che proprio non conosco. Questi erano i sette prodotti presenti all'interno. Che dirvi, io la sto amando. Di beauty box in giro se ne vedono tantissime, di ogni genere. Io ero anche abbonata, come sapete, alla beauty box di look fantastic. Però, secondo me, tra tutte quelle che vedo in giro, non solo di look fantastic, ma di tanti altri brand, questa, secondo me, è una spanna sopra tutte. Perché ci sono dei brand altissimi, anche non facilissimi da reperire, tipo Gloresipi. Insomma, a parte il sito, non si vede molto come brand. Poi, brand come Sunday Relay, trovarli in una beauty box non è da tutti. Quindi c'è anche la possibilità di provare questi brand, magari costosi, quindi uno evita anche di acquistarli. All'interno di questa box, invece, spendendo qualcosina in meno, poi potete scegliere chiaramente se abbonarvi alla box da 30 euro, da 40 euro, da 20 euro, insomma. E la scelta è anche molto ampia. E questa è una cosa anche molto valida, cosa che magari non accade per tutte le tipologie di box che si vedono. Quindi, per quanto mi riguarda, questa box è stravalida. Io la consiglio a tutte le persone che hanno intenzione di abbonarsi a una beauty box. Lasciate perdere tutte le altre. Se volete investire in una beauty box valida, come all'interno dei prodotti, buoni, le mini taglie, sì, è vero, ma neanche troppo piccole, direi travel size, oppure deluxe, come formati. Quindi, insomma, io assolutamente, da quando l'ho scoperta, sono gasatissima e ogni mese non vedo l'ora di riceverle. Quindi io ringrazio tantissimo loro per avermi fatto scoprire questa box. E vi consiglio, consiglio anche a voi di abbonarvi, se avete intenzione di farlo. Nulla, io come sempre vi mando un bacio. Spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Ah, devo dire anche un'altra cosa, perché me ne stavo dimenticando. Qualche settimana fa ho pubblicato un video in cui, insomma, avevo intenzione di regalarvi dei prodotti. Poi ho scoperto che non è una cosa legale in Italia, insomma, non va fatta in quella tipologia, ma in un'altra, insomma, non era, non è possibile fare quella tipologia di video fatta in quel modo. Io ho sempre intenzione di fare un regalo a voi. Devo studiare un attimo il modo in cui farlo, se farlo qui su YouTube oppure se farlo su Instagram. Non lo so. Comunque, restate sintonizzati, perché ho questa intenzione. Mi dispiace un sacco, perché io poi dopo qualche ora l'ho tolto, proprio perché ho ricevuto diversi messaggi in cui venivo avvertita di questa cosa e ho evitato, ecco, tutto qui. Ma sicuramente troverò un modo per farlo, anche magari un singolo regalo a più persone, insomma, capirò. Sicuramente magari lo farò su Instagram, non lo so. Quindi seguitemi anche su Instagram, rosacaggiano-basso. E nulla, io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo presto. Ciao! 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 Grazie.